Buonasera a tutti, io voglio un saluto e un ringraziamento a tutti voi per essere mi presenti per le vite, è veramente un onore, noi vi abbiamo aderito con una gioia a questo appuntamento e a questo invito, abbiamo martin scorso fatto la prova con i ragazzi del liceo, è stata una prova bellissima, mi la diluziamo, speriamo che queste collaborazioni continuino perché io come dico sempre noi siamo al fronte, cerchiamo di fare reclutamento della scuola e di fare bella figura, al fronte di fare il reclutamento delle giovani leve perché è la nostra mission, adesso chiamo il nostro vice maestro Giulio Tortello che è venuto gioco alla banda. Buonasera a tutti, siccome siamo dentro una scuola volevo sottronarmi su un piccolo particolare e anche su un aneddoto di questa associazione che nasce nel 1981 ma proprio da molte persone che all'epoca andavano a scuola insieme, una di queste è il presidente Fabio Rinaldi, ce ne sono altre qui vicino a me e è molto bello per i vostri figli poter partecipare a delle scuole come le media in diritto musicale, il liceo musicale perché è un'opportunità che anni fa non era presente sul territorio, anzi volevo anche ringraziare gli allievi che questa sera collaborano già con noi, che frequentano il liceo musicale su Zoplana. Brevemente vi spiego cosa fa la nostra associazione, durante l'anno partecipiamo a diversi avvenimenti che spaziano da commemorazioni civili, militari, religiose ma anche feste di paese, concerti nel territorio della provincia di Alessandria ma anche sul territorio nazionale, infatti organizziamo gemellaggi e trasferte come ad esempio abbiamo fatto in Toscana, in Trentino, in Emilia Romagna e cogliamo anche delle opportunità interessanti come ad esempio siamo andati a suonare qualche anno fa in Piazza della Signoria di Firenze perché abbiamo avuto anche l'onore di presenziare un'udienza giubilare del Santo Padre in Piazza San Pietro. Un altro aspetto molto importante, siccome siamo comunque qui in una scuola, è la scuola musica che svolgiamo all'interno della nostra associazione e qui presente tra il pubblico vado con piacere che ci sono alcuni allievi. Facciamo un progetto in collaborazione con la Yamaha Sorrento Musicali, lo svolgiamo all'interno della nostra sede e dapprima ovviamente quando questi ragazzini erano proprio gli inizi abbiamo creato un'orchestrina, abbiamo fatto dei saggi e pian piano adesso vediamo che sviluppando la competenza e crescendo questi ragazzi che riusciamo a introdurre all'interno di questo organico, anzi con l'occasione vi invito se avete piacere, se vi piacerà lo spettacolo, domenica prossima a nostro paese a Cassine in chiesa svolgeremo un concerto musicale e ci scambieremo gli auguri di Natale. Detto questo io lascio la parola per le presentazioni della serata. Grazie.